Emotiva RMC1, la versione completa, il nuovo preamplificatore di Emotiva, completamente bilanciato, differenziale, 16 canali, uscite bilanciate, 7 ingressi HDMI, 2 uscite, un preamplificatore che può fare davvero molto, ha una gestione dei canali e della configurazione dei diffusori stessa particolarmente avanzata, siamo ancora in attesa di Dirac, dovrebbe uscire a breve con la nuova 1.6, posso dire che il preamplificatore durante questa manifestazione non ci ha tradito, è sempre funzionato perfettamente, ha pilotato una coppia di finali serie XPA, in questo caso un 5 e un 7 canali, i finali XPA sono modulari, quindi è possibile configurarli così da avere da 2 a 5 canali, ognuno da 300 watt, i diffusori che abbiamo utilizzato sono SVS, si chiamano Prime Pinnacle, il diffusore costa appunto intorno agli 800 euro, i diffusori posteriori invece erano le Prime Tower, quindi un sistema direi accessibile da un certo punto di vista, e come subwoofer invece abbiamo usato i cuccioli di casa SVS serie 16, quindi 16 Ultra, subwoofer che offrono una buona capacità di emissione anche in un ambiente come questo che era particolarmente grande, quindi particolarmente dispersivo. Come centrale, Ultra Center, un pochino più grande del Prime Center, quindi ci ha permesso di avere una miglior rappresentazione della voce. Proiettore Epson TV 9004, Telo Screen Line con Telo Vision con 4 metri di base in formato 16-9, 21-9. Li potete ascoltare ad esempio a Padova, presso lo showroom di Sound Image, li potete ascoltare anche presso gli altri showroom particolarmente attivi nel settore dell'audio-video, che sono presenti in buona parte del territorio nazionale. L'RMC1 costa 6.000 euro di listino al pubblico, a breve uscirà anche l'RMC1 L, che è perfettamente identico, rinuncia però agli slot di espansione, costerà 1.000 euro di meno. E già presente in sala e sul tavolino a destra, il nuovo XMC2, che invece è una versione un pochino ridotta, sempre a 16 canali, utilizza meno convertitori, è bilanciato, non è differenziale, costerà come listino al pubblico 4.000 euro. Per quanto riguarda i finali di potenza, serie X, quindi XPA, un 5 canali costa intorno ai 2.000 euro, un 7 canali costa intorno ai 2.600 euro. Sono configurabili, quindi è possibile partire con due canali, perché quello è quello che ci serve oggi, e decidere di aggiungere i canali anche in un momento successivo, al variare dell'opportunità e necessità. Questo aiuta a non dover rivendere, ricomprare un finale, quindi perdendolo a questo punto di vista. Serie X, quindi 5 anni di garanzia, e motiva, realizza anche la serie base X, che è più accessibile, un finale di 5 canali, siamo nell'ordine dei 600 euro. Ideale, personalmente, nel momento in cui si possiede il classico sintomplificatore, che per quanto buoni e validi possano essere, hanno sempre un limite nella capacità di pilotaggio dei diffusori, quindi è chiaro che un XPA, comunque un 5 canali potrebbe essere un'esempio importante, un 5 canali serie base X garantisce comunque 150 watt e costa 500-600 euro.